Sono le 22.40 e quindi adesso iniziamo a posizionare tutto il nostro materiale. Iniziamo con la telecamera wifi e con le sfere di gomma. Come? No, infatti non ti vedo. Sono le 23.30. Abbiamo apprezzato la camera wifi, come vedete ci siamo spostati di postazione per un problema sulla rete wireless. Adesso andiamo a posizionare i nostri sensori audio, ossia nella sala della musica, sempre che non abbiamo problemi di wifi riscontrati come per la videocamera. E poi il registratore vocale che andiamo a mettere all'interno della presunta tomba di Manigunda. Io ho l'acceso, mi sapete dire se si collega? No, dice non collegato. Siccome non abbiamo potuto mettere il sensore audio all'interno della stanza della musica, l'abbiamo messo qui sempre vicino al sarcofago in modo che può essere ricepito dal nostro campo base e potrebbe nel caso avvertirci se succede qualcosa. Prima di scoprirlo, una volta che torniamo nella tanna ascoltando la registrazione audio, quindi doppio sensore sul sarcofago di Manigunda. È mezzanotte 12, ci muoviamo adesso per l'indagine. Andremo tutti insieme nella sala della musica, passando per la zona della tomba e poi da lì ci divideremo e ognuno di noi ha già scelto una location dove aspetterà e raccoglierà le sensazioni del momento. Stabile. Stabile. Stare. 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 quando ci si paghiamo bene, adesso Ivan resta qua all'interno della sala della musica noi ci muoviamo verso le altre due location io e Davide ci teneremo in contatto radio dopo di che torneremo a recuperare Ivan fantastico, aspetta ai 13 ci sentiamo, qualsiasi cosa ci sentiamo ok 23 gradi, punto 4 grazie a tutti da dove arrivano questi rumori potrebbe essere Ivano o Emiliano grazie a tutti grazie a tutti 24.5 26 e la 1 è 04 ci hanno raggiunto anche Aramis e Pamela per darci supporto adesso effettuiamo un altro giro come quello fatto poco fa sceglieremo stanze diverse ci divideremo sempre in tre gruppi abbiamo il diritto di riuscire a fare una foto così ecco a me inquieta tantissimo con la porta lì mezza aperta c'è dietro c'è di amici aiuto aiuto a mezza a mezza calma lì con lì Lì non so se c'è la porghetta, nel caso chi vuole andare lì la torcia, e l'altra la cucina. Qualcuno che vuole può fare una specie di quarta postazione, pensa a telecamera all'interno del chiostro. Io vorrei stare nel giardino, faremo un giretto nel giardino. Ok, io vado su di qua, vuoi scendere, e in fondo diamo, dove c'è l'altro, dove c'è l'altro? Noi dicino, è stato bravo a me. Nella sala della musica la tensione sale, e basta un colpo di tosse per angosciare Pamela. Noi dicino, è stato bravo a me. Noi dicino, è stato bravo a me. è stato il riscaldamento sei sicuro? sei sicuro se tu non ci crederai apri un lato stupendo ti ho detto che quando ci sono io ci sono i fantasmi vanno anche forse di sensibili mi viene arrivato madonna quanto siamo? e mi? arriviamo sbrigatevi ancora 4 minuti teoricamente Emi voi mi sentite? io dovevo essere esattamente sopra di voi abbiamo sentito alcuni rumori prima sembrava quasi dei colpi di tosse non siamo riusciti a inquadrarli bene probabilmente io perché mi sono anche alzato un attimo per spostarmi e ho fatto dei passi pesanti e mi sono accorto guardandomi a torno che sono esattamente superi ok è la luce dice è la luce 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 per la luce è la luce è la luce è la luce è la luce Vai chiudo Tu hai i tuoi colpi di tosse, basta C'è stato un odio Niente, Cristiano? No, a parte non ho sentito tutto Dovrei chiedere, ma solo il tuo voce Perfetto Sì Com'è? Ma tranquillo, sì sì Sono le due venti E adesso ci apprestiamo a fare Quello che sarà il nostro ultimo Giro di spezione Ognuno di noi sceglierà Il luogo che più l'ha Tirato e più L'ha incuriosito Ivan ha scelto Di rimanere qui nell'ala nord Quindi passerà I suoi quindici minuti In osservazione nella foresteria Questo E una stanza Al piano terra Che è vicino a dove venivano Tumulate le suore Se rimango qui dai Davide rimarrà qui Questa stanza era una cappelletta Utilizzata dalle suore E quindi rimarrà in ascolto Per i suoi quindici minuti All'interno di questa stanza Per i suoi quindici minuti 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 Sì Ma secondo me erano anche Quelli più pistrelli Come quelli che sentivamo E lì c'era il chiostro Chiostro aperto Come che sentivamo? Attraverso la telecamera Sono delle impronte di mani Probabilmente di qualche Però sono un po' strane Quasi piccole Per i suoi che Questo momento Sì si vuole vedere come fa tutto il tetto training verticale di che si vede tipo un'altra stanza mi sposto nelle altre due stanze posizionato il microfono in questa stanza mi sposto però nell'altra 15 minuti adesso ok posso cadere anche se fosse un'altra stanza non è un'altra stanza è un'altra stanza Un mortorio Sono mani di bambino decisamente Molto piccoline Probabilmente qualche visitatore Che l'ha alzato Con questa non si riprendono La risoluzione non è sufficiente All'altezza A meno che non si sia arrampicato No vabbè non è che Sono strisciate Ero passato distratto Non l'avevo visto Ho visto la faccia che mi guardava E doia di inaspettato Sono cariche Però non ce la farà fare due foto Madonna Minchia È apparso lì così Io non l'ho visto L'avevo visto nell'inquadratura Sono le 2.49 Il tempo per la nostra indagine è finito Quindi adesso ci apprestiamo a raccogliere Tutti i nostri strumenti E ci rivediamo nella Tana Per l'analisi È arrivato con lo È arrivato con il pane Paret Grazie a tutti.